Sì, parliamo di Indotto Exilva, in particolare dell'autotrasporto. Negli scorsi giorni c'è stato un incontro tra Cere d'Italia, l'amministrazione straordinaria e i rappresentanti degli autotrasportatori. Le aziende però hanno rifiutato l'idea del massimo ribasso. Insomma, ci sono delle novità introdotte da Cere d'Italia, ma sembra che non garbino appunto alle aziende dell'autotrasporto. Ne parliamo con Stefano Castronuovo, coordinatore regionale di Casa Artigiani Puglia, che segue questa vicenda. In diretta dal treno. Ciao Stefano, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, che cosa non vi ha convinto di questa proposta, insomma, contrattuale di Cere d'Italia? Diciamo prima di tutto che sono venuto in conto sicuramente a una serie di richieste che noi avevamo fatto, diciamo, durante l'avvertenza. Ovvero, hanno messo regole la subvezione, questo, diciamo, l'abbiamo su tutti i fronti, diciamo, dichiarato. La questione è che non è stato previsto un minimo tariffario, cioè loro hanno fatto un tender, quindi per gli amici da casa, un bando, dove le aziende dell'autrasporto dovevano, per tragitti, presentare un tariffario. Questo tariffario non è stato messo un minimo tariffario, quindi questo tende a abbassare i prezzi del trasporto. Quindi quello che noi abbiamo richiesto è appunto mettere un minimo tariffario, un modo da garantire quelli che sono i costi di sicurezza, perché nell'autotrasporto, ricordiamo, ci sono dei valori di riferimento del Ministero dei Trasporti sotto i quali non si può andare, altrimenti viene meno la sicurezza stradale. Non prevedere un limite minimo non significa in qualche modo creare macelleria sociale fra gli stessi trasportatori, perché poi alla fine ci si scanna fra di voi e chi ne paga le conseguenze sono chi ci lavora. Sì, diciamo che noi siamo in una libertà di concorrenza, una concorrenza liberale, però il problema è che nell'autotrasporto questo non può essere fatto, perché lì è chiaro che si intenderà ad abbassare il prezzo per prendere l'appalto, venendo meno poi quelli che sono di fatto tutti quegli obblighi di sicurezza, quegli obblighi contrattuali, perché ricordiamo che sono bestioni, mezzi pesanti che vanno sulle strade e che mettono a rischio non solo la vita del soggetto che lo guida, ma anche di tutti i cittadini che stanno per le strade. Abbiamo ancora poco, ma ti chiedo in brevissimo di dirci della situazione crediti avanzati dall'autotrasporto, perché ne abbiamo parlato tanto, vorremmo capire, li state ricevendo, li avete ricevuti questi soldi che vi dovevano? I vettori che avanzavano delle risorse hanno ricevuto l'accordo dell'80%, quindi il pagamento dell'80% a rate, che può essere anticipato con Sace. Sace nelle settimane scorse ha anticipato a tassi di interesse bancari, è chiaro, quell'80%, quindi la maggior parte dei vettori ha ricevuto i crediti che vantavano l'80%, rinunciando al 20% facendo delle note credit. Ora la questione è sui vettori, cioè chi realmente, ne lo abbiamo sempre detto, ha fatto il viaggio realmente, perché nell'autotrasporto esiste un vettore che è l'appaltatore e un sub-vettore che è il sub-appaltatore che di fatto deve ricevere i soldi e dal vettore, in questo caso non più da ceglierie, e quindi speriamo che li riceva, non sappiamo a quanto li ricevi, cioè se i vettori hanno preso l'80%, quanto verrà dato i sui vettori? Il 100% o meno? Effettivamente ha fatto il lavoro, di fatto. Esatto, sì, è un sub-appaltatore. Sì, è un sub-appalto, certo. Bene, continueremo... Quindi abbiamo chiesto anche ai direttori di verificare che i sui vettori vengono pagati, perché se no sarebbe un'ingiustizia sociale e soldi che perde il territorio. Grazie, grazie per essere stato con noi a Stefano Castronuovo, coordinatore regionale di Casa Artigiani Puglia, con cui abbiamo parlato di indotto autotrasportatori. Grazie mille, buona giornata. Grazie a voi.